E' lontano, cazzo, vicino a Morristown, nell'Huckleberry State Park. Vicino alla casa dove ha dormito George Washington? Eh. Dammi l'euro. E mica devi farlo tu. Ci pensiamo io e fuori. Lo voglio fare. Ma buono. Manda fuori a casa. Bastiamo noi. Stai tranquillo, vogliamo solo parlare con te. Tutto qua. Io non c'entro, è stato Sean, solo Sean. Allora perché tremi? Perché mi ucciderete per una cosa che non ho fatto. Non credi che ti avremmo già ucciso, se l'avessimo voluto? Rilassati. Ti vogliamo solo parlare. È stato Sean. Dovete credervi, è stato Sean. Era impazzito. Ha detto che ci stavano mancando di rispetto, che dovevamo guadagnare punti con Ricci, ma io gli ho detto a Roma non l'hanno fatta in un giorno. Chiedi pure, Tony, ti dirò tutto quello che vuoi sapere. Chi ha detto Ricci? Lui non c'entra. Non l'ha chiesto lui. Anzi, si è incazzato quando gliel'ho detto. È solo di Sean questa pensata. Va bene. Vieni qui. Avvicinati avanti. Sei sicuro che non è coinvolto nessun altro? Prenditi un minuto. Riflettici. È stato Sean. Sean e basta. Va bene. Se non bravo voglio. Posso bere? Vedete se c'è qualcosa, va? Che vuoi? Un'acqua da onica? Qualcosa del genere? Grazie. Com'era? Sei sicuro che ti andava bene dietetica? Non era meglio qualcosa con lo zucchero? Sono tutte dietetiche. È buona? La vuoi finire? Grazie, Tony. Perché sarà quella robaccia. L'ultima cosa che avrai bevuto. No, ti prego, no! Mamma! Mamma! Ti prego, Tony, ti prego! Ciao! Torni! No, ti prego! No, ti prego! Ti prego! Ti prego! Torni! Grazie a tutti.